Buongiorno a tutti, amici e amiche. Con questo video volevo io e la mia famiglia porgere a tutti voi e ai vostri cari i migliori auguri per un fraterno buon e santo Natale, che il Natale possa aprire i nostri cuori per far spazio al volto misericordioso di Gesù Cristo. Abbiamo durante tutto l'anno, non soltanto nel periodo natalizio, quella autentica consapevolezza, quella dedizione verso il prossimo, verso i diseredati, verso i più bisognosi, verso gli emarginati, verso coloro che, come ci dice sempre Papa Francesco, fanno parte della cultura dello scarto. Abbiamo una parola di conforto, di ausilio, di aiuto verso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Augurandovi ancora un Santo Natale, un buon Santo Stefano e un felice anno nuovo, salutandovi francescanamente, vi auguro a tutti voi, cari amici e amiche, che il Signore vi dia pace.